Con un finale al Cardiopalma il Famila Wuberschio è tornato a vincere. Presso il Pala Selvapiana le Orange hanno sconfitto le patroni di casa per 68-63. Schio veniva dalla vittoria di domenica in casa su Venezia, l'84 su 62 sulle Lagunari ha dato fiducia e motivazione. Non era semplice tornare a giocare appena tre giorni dopo l'ultima partita, ma gli scledensi sono stati ugualmente brave. Dopo una prima metà di gara dominata hanno avuto qualche problema in più al rientro dagli spogliatoi, Campobasso ha ricominciato da capo e ha messo in difficoltà Schio. Tutto si è risolto negli ultimi due minuti di partita con le nostre compaesane che hanno schiacciato sull'acceleratore e sono riuscite a portare a casa due punti preziosissimi. Schio con questa vittoria si avvicina ancora di più alla vetta della classifica sempre occupata da Venezia. Solo continuando così le bianco-arancio potranno giocarsela per il primo posto. La prossima sfida sarà domenica in casa delle rivali di Lucca. Vincere significherebbe mettere ancora più pressione alla Reier. La strada intrapresa è quella giusta, con fiducia e sacrificio sarà importante non perderla.